non mi credete scusate sono un po più buio però aspettate provo a fare una cosa con la luce raggiungerò fuori è l'uno siamo di notte sono le 8 e si le 8 e 48 brava a che deve bello ragazzi scusatemi se non ho messo video nell'ultimo tempo però praticamente cioè ero occupato mi hanno dato i compiti non ho fatto video ciao